Eccoci qui, parliamo, avevamo detto, di agricoltura, parliamo di un settore particolarmente colpito dalla pandemia, un settore che però vuole riprendersi, vuole farlo anche con gli aiuti dello Stato, gli aiuti governativi, ma vuole farlo anche con le proprie forze. Ne parliamo in studio con Emanuela Ripani, buongiorno, grazie per essere qui con noi, presidente di Coldiretti Teramo, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Ho sintetizzato bene, è un settore, quello dell'agricoltura, è quello che lei rappresenta con Coldiretti che vuole ripartire anche con le proprie gambe e può farcela? Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio per questo invito e anche la possibilità di poter parlare per il nostro settore. Sì, il nostro settore è stato duramente colpito come un po' tutta l'economia dal Covid, ma il segnale che oggi voglio mandare non è solo per la forza che avremo per la ripresa, perché in realtà il nostro settore non si è fermato, non ha avuto stop, grandi stop. Sì, per alcuni settori sicuramente la ripresa sarà più forte e anche più lunga nei tempi, ma quello che è il settore agroalimentare invece è stato un settore che ha fatto vedere che noi ci siamo, siamo rimasti, abbiamo garantito anche tutti quei prodotti alimentari sui prodotti sia dei chilometri zeri che della grande distribuzione, quindi con grande difficoltà anche nel questo settore, perché? Perché dici, come produciamo? Che problema avete? Ma la mano d'opera? Tutte quelle comunque anche aggravanti che abbiamo avuto a livello legislativo le abbiamo avute anche noi? Diciamo che è stato l'indotto, il problema reale, non solo quello della produzione, che naturalmente, anzi non la produzione, che di fatto non ha incontrato ostacoli particolari con la pandemia se non in qualche situazione. Tutto quello che però ne consegue è stato il vero problema probabilmente. Se noi pensiamo a quello al settore proprio agroalimentare il problema è quello della mano d'opera, dove ancora oggi dall'inizio della pandemia non c'è un decreto che permetta i flussi di mano d'opera che, come ben sapete, oramai da parte nostra arriva quasi tutto dall'estero, dai paesi fuori dall'Italia e anche, per esempio, quello che può essere la modalità del voucher, che viene applicato magari su settori stagionali e che vanno a toccare proprio i giovani, su quelli che sono gli studenti, così come quello invece dei pensionati, che sono magari delle volontà che si ha anche per aiutare il settore, ma soprattutto perché poi il settore agricolo non è solo, è anche bello lavorare nel settore agricolo, se pensiamo proprio in questo momento di pandemia. Con tante imprese anche rosa che rappresentano un po' il punto di forza di questa nuova fase dell'agricoltura e che sono anche in termini numerici una bella realtà, ci sono tante donne che lavorano in agricoltura in questa fase. Abbiamo due grandi punti di forza, uno sicuramente è quella dell'impresa donna che a livello abruzzese comunque e anche a livello nazionale tocca quasi un'azienda su tre, quindi è una bella realtà, sempre in crescita. Anche per questo l'agricoltura oggi diventa un settore accattivante sotto l'aspetto dell'opportunità, perché se pensiamo che molti lavori, l'agricoltura, per fortuna e la pandemia, questo oggi ce l'ha dato sempre più in evidenza, non è più statica come ce la ricordiamo, perché magari abbiamo un ricordo e comunque una tradizione che va rispettata, che è anche quella della fatica. La fatica c'è ancora, ma c'è questa possibilità anche in settori più economici, come quello dell'agriturismo, dinamici, come quello della commercializzazione dei prodotti aziendali. Anche nel sotterroivino molte belle esperienze di donne di successo sono donne e quindi l'opportunità che oggi l'agricoltura rappresenta è non solo più come un settore marginale, lontano, di fatica, ma anche di dinamico e quindi la donna può avere un bel ruolo. Un'evoluzione senz'altro incoraggiante che però va sostenuta in questa fase, perché abbiamo detto in apertura, vuole il settore dell'agricoltura ripartire con le proprie gambe, ma compatibilmente con quelle che sono le situazioni, è indispensabile avere degli aiuti che possano essere anche mirati non solo al settore rosa, ma in generale a tutti i vari settori agricoli. Pensa che in questa fase questo sia possibile e voi che cosa chiedete in particolare al governo? Allora, noi a livello nazionale abbiamo fatto diverse richieste e anche delle proposte per quello che riguarda il piano di ripartenza e resilienza, quindi PNRR, che se ne parla tanto. Poi qualche volta magari ci può essere, diciamo per settori specifici, come quello oggi sempre più importante che il tema dell'acqua, con diversi progetti anche per fare progetti rinnovabili legati all'acqua. Innanzitutto perché avremo un grande tema che penso che negli ultimi mesi è stato anche affrontato in maniera diversa, che è quello della tutela dell'ambiente, degli ingenti, della tutela dell'acqua, con quest'anno così particolare, molto siccitoso, ma questo non è solo purtroppo quest'anno, ma sono diversi anni che oramai si va sempre in più incentrando questa problematica. Cosa succede? Che noi abbiamo pensato, proposto, a quello che può essere un recupero ottimale delle acque, per esempio, ne parlo di uno di progetti, ma ne sono tanti, fatto con ambi nazionale, con un recupero delle acque piovane per migliorare poi l'esigenza dell'irrigazione, a quello che possono essere della creazione dei piccoli bacini, dove poi possono essere messe a fruizione sia dell'agricoltura, ma anche dei cittadini per produrre dell'energia elettrica. Quindi noi come Coldiretti ci stiamo pensando già da tanto, perché in primis pensiamo che il bene specifico, in questo caso dell'acqua, è un bene che ci porta un valore aggiunto importante nella nostra agricoltura, dove oggi la nostra agricoltura è un'agricoltura di qualità. Per fare la qualità ci sono elementi imprescindibili come l'acqua. Se l'acqua è un'acqua di qualità si produce anche del buon prodotto da portare sulle tavole e trasformare nei vari prodotti alimentari. L'agricoltura sconta in questa fase l'emergenza, però ci sono anche delle questioni annose che riguardano il settore, come potremmo far riferimento a quello appunto dei... sono stati commissariati cinque enti consortili e quindi è un tema questo assolutamente scottante e attuale, che probabilmente però arriva da lontano. A questo proposito la vostra posizione qual è e che cosa si può fare. È comunque un campanello d'allarme, ma con dei lati positivi da tenere sotto controllo, cioè da considerare il fatto che questi commissariamenti in ogni caso poi avranno una fine e porteranno anche, almeno a giudicare le dichiarazioni degli ultimi giorni, porteranno anche a una fase compiuta. Si spera almeno. Noi questo tema ce lo siamo posti non negli ultimi giorni, ma come bensì si vede dalle azioni che abbiamo fatto anche a livello regionale, dove abbiamo chiesto un incontro con l'assessore Emanuele Impludente, dove proprio abbiamo dichiarato le nostre volontà. Volevamo che questi comunsorizi di bonifica abruzzesi venissero messi ridati nelle mani di chi ha diritto di stare dentro e di amministrarli. E su questo avete avuto delle rassicurazioni, no? Sì, adesso pare che ci sia l'intenzione di andare... Almeno dalle ultime ore, la dichiarazione delle ultime ore. La nostra perplessità e anche voglia di andare a amministrare questi consorsi di bonifici è appunto perché c'è la programmazione che parlavamo prima del PNRR, dove l'Abruzzo rischia di essere tagliata fuori se non ci sono progetti entro i termini per quello che riguarda l'acqua. E noi questa risorsa in Abruzzo comunque l'abbiamo e la possiamo migliorare. Quindi perché lasciare l'agricoltura e non solo, perché parliamo anche del benessere dei cittadini quando oggi l'agricoltura funziona, indietro e perdere questa opportunità che magari non si ripresenterà per molti anni. Assolutamente chiaro. Prima diceva, aveva fatto riferimento alla mano d'opera e poi indirettamente, che è un problema, indirettamente anche ai prodotti che arrivano per la maggior parte, purtroppo dobbiamo dire a questo punto anche dall'estero. Ci sono dei settori, delle proprietà e dei prodotti che invece stanno andando molto bene, mi riferisco al pomodoro, ma anche in questo caso, almeno a giudicare dalle ultime cifre che arrivano, però anche in questo caso c'è un'invasione di mano d'opera, ma soprattutto di prodotti anche che arrivano da fuori. Voi che tipo di posizione avete preso a questo proposito e quali sono, se ce ne sono delle soluzioni? Allora, questo è un tema molto complesso, però noi ci siamo sempre battagliati per una risposta che arriva ai cittadini e ai consumatori, che è quella dell'etichettatura di origine. Perché ancora oggi, purtroppo, lo strumento in molti casi c'è, però non siamo, come possiamo essere, abituati a usarli. Non è applicato. Bravo. Perché, quindi per questo lo voglio dire anche qui, per mettere a conoscenza che molti prodotti, da quello che è l'ortofrutta, al vino, all'olio, alle carni, hanno bisogno di un'etichetta, dove si dice da dove arrivano questi prodotti. L'origine della carne, dove vengono, nel caso, macellato, lavorati, le fasi di trasformazioni e in alcuni casi c'è addirittura, su alcuni prodotti, anche il produttore. Quindi bisogna saper leggere l'etichetta. Dove non c'è l'etichetta, va chiesto e va anche detto, perché se non abbiamo questo coraggio, l'invasione dall'estero arriva in modo automatico e non ci rendiamo conto. Allora, molte volte si dice, vabbè, ma perché l'estero, comunque l'Europa, benissimo, però ricordate che a oggi, io sono un divo che mi piace molto parlare, di noi. L'Italia è uno dei… E fa bene, in questo caso fa bene perché di questo stiamo parlando. No, ma perché sai, di casa mia, tra virgolette, no? E noi in Italia siamo uno dei produttori che usa meno, meno, meno fitofarmaci sui prodotti agroalimentari, così come meno antibiotici sulle carni. Queste cose vanno dette. Molte volte invece preferiamo parlare degli altri e non diciamo le nostre cose. E allora io l'accontento ulteriormente e accontento, spero, anche i nostri telespettatori che stanno seguendo questo spazio dedicato all'agricoltura, parlando addirittura, per parlare di noi, di chilometro zero. Il chilometro zero in questa fase, con l'agricoltura a chilometro zero, che tipo di prospettive ha? E può essere il punto di forza del settore? Oppure ci sono anche qui delle criticità? Allora, il chilometro zero negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Sicuramente c'è anche la legge sulla multifunzionalità che ha permesso questo, quindi permette al produttore di vendere il proprio prodotto trasformato o direttamente. Sembra una banalità, però questo accresce anche perché non dobbiamo dimenticare che l'impresa è anche economica e quindi un margine di redditività su alcuni prodotti che magari arrivano, come diciamo prima, dalla grande concorrenza estera e dove noi magari abbiamo delle difficoltà a piazzarci nel mercato. Però voglio ricordare anche un passaggio, che questa è la grande opportunità che i consumatori devono cogliere e noi come agricoltori dobbiamo essere consapevoli. Che ci sono diverse fasi? Sicuramente la prima fase primaria è appunto quella del coltivare, dell'allevare, quindi non solo il trasformare. Quindi il chilometro zero può essere una doppia opportunità. Quella del produttore che ha la forza di mettersi in rete o in proprio e fare la vendita diretta a chilometro zero, sicuramente il ciclo si guadagna nel livello di ambienti, di costi di trasporto. È un strumento positivo se viene usato bene, sia per il consumatore che per chi produce e poi anche nella fase complessiva totale perché ci risparmiamo anche l'ambiente, ci copriamo l'ambiente. Se pensiamo che alcuni prodotti attraversano addirittura l'oceano con l'aereo o con la nave, quindi avere un prodotto che arriva da qualche chilometro o a qualche centinaio di metri da dove abitiamo, sicuramente abbiamo anche dei vantaggi ambientali. Dall'altra parte il chilometro zero viene anche ad aumentare quella filiera dove chi non ha la forza per capacità, per volontà, per tipo di prodotto che si produce in azienda, di avere un riscontro positivo. Quindi c'è anche chi fa un prodotto iniziale e quello comunque va messo in commercializzazione. Quindi se un settore comunque chilometro zero cresce in automatico, cresce anche la richiesta per chi nel caso produce soltanto e non è affacciato alla vendita e può essere un'opportunità. io ci tengo nell'aspetto, come dicevo prima, di far passare il messaggio che abbiamo dei prodotti che vengono prodotti proprio con degli strumenti fitofarmaci, gli antibiotici a basso impatto e abbiamo anche una grande forza in questo territorio che è anche quello degli allevamenti, che gli allevamenti sono ancora in qualche modo, fanno ancora la piccola transumanza, c'è la cultura di un allevamento all'aperto, con tanti benefici per chi può poi o vuole acquistare questi prodotti di allevamento e non solo la parte del latte, ma come la filiera del latte, dell'olio, cioè tutte le filiere da noi hanno un buon processo, un buon processo di produttività. In attesa di COP26 di Glasgow sicuramente quello del clima pazzo è un problema in più con il quale l'agricoltura non solo abruzzese e del centro Italia ma nazionale e mondiale deve confrontarsi. Da questo punto di vista quali sono le innovazioni, quali sono i sistemi che permettono di sopravvivere a un settore, deve fare i conti con un nemico in più, se realmente c'è. Io infatti prima ho voluto parlare proprio di acqua, perché sul nostro territorio l'acqua è molto sentita, io quando parlo con i giovani vedo che hanno un'accortezza, una preoccupazione per quella che è l'acqua in realtà con l'innalzamento delle temperature e andiamo sempre più su un clima che è molto più caldo, quindi con conseguenze anche di siccità, di aridità del terreno, meno produttività, perché anche quest'anno magari sulle vigne adesso non abbiamo ancora i dati, perché la vendemmia ancora sapete che non è terminata, però probabilmente ci sarà un buon prodotto, magari però le quantità si riducono. Comunque abbiamo da affrontare poi magari i costi di produzione, quindi ci sono dei parametri dove sì, è vero che c'è una buonissima qualità in tutte le cose, però ci deve essere anche una giusta redditività. La vendemmia non è ancora terminata, per quanto riguarda invece l'ulivo, in questa stagione che tipo di olio ci sarà e che tipo di raccolta si prevede? Pare che anche l'ulivo quest'anno abbia una buona produttività, con qualche percentuale in più rispetto agli altri anni, quindi vediamo, perché poi la campagna finché non finisce, quella è appena iniziata. Mi volevo riagganciare alla domanda che mi avevi fatto prima per terminare su un settore che secondo me è molto importante, perché prima abbiamo parlato di donne, no? Sì. E quindi l'accortezza sul clima secondo me oggi lo danno anche le imprese e i giovanili, che ne sono tante e addirittura nel nostro comparto, quello agricolo, con la pandemia è l'unico settore dove ha resistito e gli giovani, che sembra una cosa paradossale, invece i giovani under 35 sono cresciuti dell'8%. E tu dici, cosa c'entra? Un'evoluzione quasi così, imprevedibile, che però potrebbe avere un suo perché. Sì, perché comunque i giovani stanno capendo che c'è una direzione dove loro possono realizzarsi, hanno delle idee innovative, per esempio quando prima parlavamo di chilometri zero, c'è un'azienda in Abruzzo dove ha avuto la capacità di rinventarsi, nel senso loro già producono dei prodotti, fanno il chilometro zero e hanno avuto anche l'attenzione di fare consegne a domicilio, perché in quel periodo sappiamo bene che la difficoltà era proprio quella di approvvigionarsi poi dove magari uno era anche abituato ad andare, con delle bici, quindi la capacità di reinventarsi anche nell'aria. fare poi all'ambiente e quindi anche a quegli cambiamenti climatici, perché parliamo sempre di ambiente, ma giustamente loro non vanno con il furgoncino, ma hanno avuto questa bella intuizione di fare le consegne in bici, quindi rispettare anche l'ambiente. E questa è una realtà del territorio, stava dicendo? Sì, sì, abruzzese. Bene, questo è senz'altro importante e così come è importante, dicevamo prima, il riferimento anche a quelle che sono le vostre attività come col diretti, domenica 26 settembre avete organizzato la Santa Messa nella Cattedrale per quel che riguarda la benedizione dei trattori con il Vescovo Leuzzi. Che clima c'è stato? Che voglia c'è di ripartire in questa fase? Veramente devo dire che, sai, quando si fa una cosa dopo anche un evento come questo, che col Covid l'anno prima l'avevamo sospeso, sapete bene tutti i motivi, l'abbiamo ripreso, ci sembra come un punto interrogativo. Poi invece abbiamo capito che la nostra scelta, anche se magari fatta in maniera anche ridotta rispetto a quello che erano negli anni passati, perché il Covid c'è. Però ho visto che chi ha partecipato ha veramente avuto piacere e ha accolto in modo positivo l'iniziativa che abbiamo fatto, quindi anche il ritrovarsi distanziati con tutte le regole, però il ritrovarsi, il rincontrarsi. Distanziati ma uniti, anche operativamente. E' quello che era il significato, perché poi arrivano anche, normalmente, dedicato anche alla famiglia, il momento della messa. Quindi è stato un bel momento, inserito a quello che era in quel momento il tema dell'alimentazione. Quindi ci siamo ritrovati in pieno nei nostri obiettivi. Una teramo che, diciamo, vi ha dato anche un po' la scossa per ripartire. Invece, a proposito delle iniziative vostre di Coldiretti, che avete in animo di fare di qui poi a Natale? Adesso ci saranno sicuramente quelle che sono, come dicevi prima, le attenzioni ai vari raccolti. Seguiremo queste attenzioni. Tematiche forti saranno sicuramente quelle legate all'ambiente, a quello che potremo ai consorsi di bonifica. Perché, vabbè, lì sarà magari dopo il periodo natalizio, ma l'attenzione comunque adesso già ci deve essere. Dobbiamo cominciare a verificare quello che ancora si può fare, si può dare come opportunità al nostro territorio abruzzese. La vendita diretta sarà un altro degli obiettivi che non lasceremo cadere. Nei vostri punti, nelle varie città, non solo abruzzesi, naturalmente. Sì, sì, sì. Adesso ci saranno diverse attività. Certo, non le anticipo tutte perché è difficile. Non dimentichiamo che con la situazione Covid non è che tutto è... Compreso il chilometro zero. Probabilmente, così come ha poi molto bene spiegato poco fa, con questa risorsa che senz'altro va tenuta in considerazione, anche in considerazione, come diceva poco a poco fa, della qualità dei prodotti italiani, che è una qualità assolutamente di livello, anche per quel che riguarda poi i preparativi nel prodotto, no? Che ci sono... almeno questo stava dicendo. Sì, 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 sì. Sicuramente adesso ci sono prodotti che... Insomma, andremo verso il Natale, come dicevi, no? E quindi molte aziende avranno anche la capacità di rimettersi sul mercato. La nostra speranza è proprio quella, come magari non abbiamo parlato per niente, no? Però ci sono settori agricoli, no? Adesso abbiamo parlato della... diciamo, principalmente dell'agroalimentare, del... Vabbè, il vino ha avuto le sue problematiche, però piano piano sta ripartendo. Per esempio, un altro importante settore che è stato toccato dalla pandemia è stato quello del florovivaismo, che magari, ecco, Natale potrà... Ne hai sentito? Sì, tantissimo, tantissimo. Quindi aspetta il Natale con ansia per questi prodotti? Probabilmente è uno di quei settori che, anche perché ha molta stagionalità, no? Non abbiamo parlato a proposito delle varie branche che il settore agricolo presenta, anche quello dei, chiamiamola, dei bed and breakfast, ma che sono in questo momento anche una percentuale alta e probabilmente anche tra le più toccate dal Covid. E a questo proposito, gli aiuti tanto decantati e in molti casi anche arrivati, che tipo di aiuti sono stati e che tipo di aiuti si aspettano le aziende del settore? Allora, questo è anche uno dei settori molto colpiti dalla pandemia, anche perché sono settori che sono stati fermi per diversi mesi. Beh, lo scorso anno a cavallo praticamente sono stati chiusi quasi 7-8 mesi. Con molte aziende anche costrette a chiudere. Sì, come quello della ristorazione. Hanno avuto anche qui la capacità di resistere, di fare gli adempimenti, di mettersi in regola. E pensiamo pure che in molti B&B, agriturismi, anche con ristorazione, ci sono realtà dove hanno anche grandi spazi e quindi si sono anche lì saputi un po' rinventare. Forse, tra virgolette, erano anche dei luoghi più sicuri perché avevano tanti spazi all'aperto. E allora è stato un settore comunque colpito. E anche se mi chiedi quello che è a livello economico i risarcimento... Sono arrivati i risarcimento realmente. Ma non è che ci sono stati dei veri e propri dedicati al settore. Sì, qualcosa, però diciamo che alcuni settori sono stati un po' inclobati in quello che era la situazione complessiva agricola. Quindi magari hanno avuto dei benefici sugli sgravi dei dipendenti, però magari aiuti diretti non ci sono percepiti. Per chiudere, prima stavo facendo riferimento alla possibilità di aprire nuove aziende, di partire non solo con i giovani, per i giovani, ma non solo per loro. Che tipo di opportunità ci sono in questo momento per chi si mette in testa che vuole, non dico fare l'agricoltore, ma quantomeno entrare in un settore agricolo come professione? Allora, oggi infatti io, quanto racconto, dico che le opportunità dell'agricoltura oggi sono diverse e tante, perché appunto abbracciamo non più un settore unico che è solo quello primario, ma tutto quello che lei ha dato anche grazie alla multifunzionalità. Che consiglio dà a chi vuole cominciare, magari giovane o giovanissimo, meno giovane, vuole cominciare questo lavoro, voltare pagina e mettersi nel settore agricolo? Allora, guarda, ti posso dire che mi hai fatto quasi una domanda facile. Alla fine abbiamo fatto una facile. Abbiamo fatto una domanda facile, mi dico perché. Perché in realtà sono 20 anni, 25 anni che io sono nel settore dell'agricoltura per la mia persona e arrivo proprio da un altro settore. Bene, esempio giusto. Sì, quindi io arrivo l'esempio, ero agente di commercio, poi mi sono avvicinato a quello che era l'agricoltura grazie all'azienda di mio marito che è tre generazioni che fa allevamento e ho dato, ho visto, ho visto in quel momento che c'era una possibilità in più, no? E ho dato il lato, quello commerciale e poi abbiamo reinventato il caseificio azientale e poi il punto ristoro agrituristico, un progetto d'insieme. E appunto oggi, come nella mia situazione, ci sono tante, tante realtà, quindi non solo giovanissime ma anche più adulte e sono rimasta colpita all'epoca da un racconto di tre donne che non erano giovanissime perché io lì avevo 22-23 anni, invece queste signore erano un pochino più adulte, intorno ai 40-45 anni, addirittura di questa storia, quindi non parliamo di oggi ma di alcuni anni fa, di tre donne che arrivavano da settori completamente differenti, quindi non avevano niente a che fare con storie addirittura aziendali agricole, invece queste tre donne si sono sapute rinventare, hanno riscoperto un tipo di aglio, addirittura facevano, hanno inventato dei bouquet da sposa con questi agli particolari insieme a altre caratteristiche e loro riuscivano a creare reddito addirittura con un pazzoletto di terra. Guarda caso tre donne che con lei fanno quattro, quindi mi sembra di aver capito che consiglia a chi ha voglia di farlo, di provarci. Sì, io la cosa che tengo sempre come messaggio a passare è anche questo, che è vero che ci sono opportunità che lo Stato ci deve dare e deve accogliere anche le nostre proposte perché siamo aziende che poi non dislochiamo, rimaniamo in Italia e quindi questo... Conoscete reddito e anche lavoro. Perfetto, ma poi dall'altra parte l'imprenditore ha una caratteristica che è quella dell'imprenditore che dice la parola stessa, ma bisogna analizzare e credere poi nel progetto che si fa, perché se non crediamo in primis a noi stessi diventa un pochino tutto. Benissimo, noi ringraziamo Emanuele Arripani per questo messaggio anche positivo e per tutto quello che ci ha detto, Presidente Coldiretti Teramo, grazie per essere stata con noi qui a Veramattina, noi ci fermiamo un attimo, poi ritorniamo. Ecco, di nuovo grazie per essere stata qui. Grazie a voi, grazie a voi tutti. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, restate con noi, abbiamo tanti argomenti da trattare, anche quello collegato alla pandemia che chissà, speriamo, possa in parte regredire nei prossimi mesi. Pubblicità.